30 giorni di tempo a disposizione dei cittadini per poter esprimere la propria preferenza in merito alle proposte progettuali per il bilancio partecipativo 2022. Aperte dunque le votazioni già da stamattina 23 dicembre dalle ore 9. Sino alle ore 24 del 22 gennaio 2023 si potrà esercitare una sola preferenza per ogni area tematica, utilizzando l'apposito spazio bilancio partecipativo posizionato nel sito del comune di Caltanissetta, si precisa nell'avviso pubblico. 20 le proposte progettuali che erano state presentate di cui una fuori termine ma a seguito della valutazione da parte della commissione della loro ammissibilità e fattibilità sono 13 le proposte ammesse alla votazione di cui 10 per l'area tematica cultura, 2 per l'area tematica sport e 1 per l'area tematica sviluppo economico. Ed in particolare per l'area tematica cultura le proposte progettuali sono Agape, famiglie e disabilità al centro di Jessica Napoli, il testo nel cassetto del Teatro Stabile Nisseno, percorsi di arte umana dell'associazione culturale Creative Spaces, dal mito alla scena dell'associazione Casa Rosetta Ollus, sulle ali del successo dell'associazione di promozione sociale sulle ali della musica, le vie dello Zolfo, associazione mineralogica paleontologica e della cultura della solfara di Sicilia, ti racconto Caltanissetta dell'associazione scientifica Ollus Ritmamente, itinerari di legalità dell'associazione culturale di promozione turistica Inner Sicily. Gender Equality Leader di Najwa Farichi, festival delle culture contro le mafie di Giuseppina Maria Danila Giadone, per l'area tematica sport senza confini riprendiamo a giocare insieme dell'SD polisportiva nissena di Caltanissetta, to win in life then in sport per vincere nella vita poi nello sport dell'SD Cusn Caltanissetta, per l'area tematica sviluppo economico uncinetto artistico su telaio il merletto del laboratorio artigianale Lady Anne e ricami della nonna.